direttamente dalla cameruccia magica buongiorno a tutti quanti stamattina voglio far passare penso uno dei messaggi più importanti che io possa far passare appunto le donne non si toccano le donne non si toccano poi si bevono perché appunto avete toccato una donna e vi accade qualsiasi cosa in cacere dopo quando uscite non vi lamentate ma non vi ci avete vendito c'è il naso qui guarda la botta c'è il naso spaccato non vi lamentate perché vi ripeto le donne non si toccano mi raccomando ha dimenticato brutto indegnetto che non sei altro sciocco stupidotto che non sei altro ieri mi hanno mandato la tua storia dove dici c'è il telefono voglio fare la diretta alla dire ti piace fare dirette col brasiliano io ti sto aspettando io ti sto aspettando per fare questa diretta come qual come non mai ti sto aspettando perché diciamo alle persone diciamo alle persone chi sei veramente il il brasiliano cercherà è difficile cercherà di aprire gli occhi alle persone che ti seguono per dirgli veramente chi sei così ha visto mai che te levano e il segui eh va bene famo sta diventa dai meglio che puzzo di vecchio che puzzo di fame eh eh si bravo fratelli eh si bravo meglio puzzare di vecchio che naftalina piuttosto che puzzare di infamità ma ricordate